nico ma a roma come si sta bene ma il papa l'hai visto quest'anno e dove è stato a san pietro lo so lo so di colite si lo so a gemelli pare che è andato è una persona seria ancora a campo ma si vede che è furbo perché a quest'ora se no era morto ma la gente dice che ti vuole bene al papa ma dici ancora è giovane per me è meglio che resta sì sì ma non si resta chi l'ammazza e poi secondo te che fine facciamo noi fanno quello che fanno sempre la libera non l'ha fatto ma infatti tra un po' diventeranno diventeranno vedi che hanno fatto il vaccino e diventeranno daniele io non faccio niente